Oggi mi sono arrivati due pacchi nuovi da Amazon, come avevo detto nell'ultimo video, quello dove mangiavo cereali per 24 ore che sono tutti qua dietro Stavo sistemando tutta la camera, tutta la parete Qua abbiamo attaccato i due pezzi, lì ne è arrivato un altro, è arrivato ieri, l'ho attaccato lì Lì sopra ci doveva essere il fulmine come vi ricordate, ma è caduto e l'ho appoggiato lì sopra per il momento Mi è arrivato una nuvola led colore viola, qua sotto in modo tale che ci sia un led lì, un led là sopra Poi tutte queste lampadine che sono tutte colorate, quindi rosse, blu, tutti questi colori qui che metterò tutto là sopra In modo tale che venga una parete super illuminata e con tutti i cartelli americani Altre due cartelli americani mi mancano che metterò in giro e poi lì in mezzo come vi ho detto metterò una cosa fighissima che ancora non posso dirvi Buon day! Io sono Barbuto ma non ho la barba, Barbuto è sempre piaciuto Nel video di oggi farò una challenge a tema TikTok, so che vi piacciono Una challenge che mi è venuta in mente anche se so che sono scarsissimo in questo ambito, sono bravo a fare tantissime altre cose ma non questo Ovvero i balletti Praticamente come vi ho detto ho delle airpods, farò questa challenge con Bea Metteremo a turno uno per volta una canzone di sottofondo e dobbiamo fare il balletto di TikTok Ovvero quindi prendiamo le canzoni più famose con i balletti più famosi di TikTok e ballando Senza far ascoltare la musica all'altro, dal balletto all'altro dovrà indovinare di che canzone stiamo parlando Mi raccomando se sei un nuovo iscritto iscriviti al canale, hashtag nuovo iscritto Guardate il video fino alla fine perché a fine video vi devo dire una cosa importantissima Tornerò io con questa schermata e vi dirò una cosa stra importante, una sorpresa per voi Allora partono le ragazze quindi inizio io Dobbiamo vederti ballare, ballerista Non barare eh, che te sei solita barare Non è male a piegare ma Ho capito quello che fa Non ti sento, cosa hai detto? Ho detto che la canzone è quella che fa Non è un po' di flexi, do you feel it, take it low Rose Ok, un punto incredibile E io sono una tiktoker Senza barare Senza barare Senza barare, incredibile Ok, vai, tocca attivo Tocca V Ne 1 a 0 Incredibile con sta challenge Barbuto sfornacalenge Barbuto sfornacalenge Le challenge di barbuto ho sempre piaciuto Savage? No No, non guardare In spagnolo invece Già insomma peso C'è mamma Non c'è la bella A scrivere la bella Che che ne è Che che ne è No, non va così Ma questa c'è la canzone, la sai? No Cioè ho presente che canzone è Ma non mi ricordo ne le parole del T Zero barbuto Io sono una ballerista professionista Tocca a quel barbuto ho sempre piaciuto Non ballare e guardare Ragazzi ecco perché le indovina Bara Non guardo, guarda te, guarda, guarda te Beatrice Cossu Il suo slogan è Barro se posso Che slogan è Allora, a parte che la sta cantando Ma è logicamente savage questa È finito? Come si fa a stoppare qua? Scusate La sto cantando? La prima parola che hai detto è fatto così I'm seven Che barona Quindi Vedete che barba Guarda la piano Hai sbagliato te, hai sbagliato Tu hai fatto I'm seven Non è seven Sì che è seven Sto confuso È seven Sbagliato te, hai sbagliato te, hai sbagliato te Quello 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Ragazzi Hai deciso di fare una challenge che vincerò io Ho inventato una challenge dove perdo Esatto E dove non posso barare Aspetta ho capito qual è Non guardare sicuro No, no, non ho guardato Ragazzi questo è più a cosa un bravo scarto No, è così fa Ma che chiedeva Non guarda No, no, no Guardate, guardate Mi fa paura Ho capito, ho capito, ho capito Ho capito, ho capito È 50 cent questa È quella che fa Lo mamma show me I move Non ti sei cosa hai detto? Lo mamma show me I move Sbagliato Go ahead Put you back into È giusto Sbagliato No, 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 è sbagliato È giustissimo Lo so di per certo Guarda Infatti No, devi stare Io non ti vedo così Allora, aspetta te la rifaccio Più indietro, più indietro Ok, no Sì, vabbè ragazzi Questa qua è quella di A's School Musical 3 a 1 Senza che ci recupero Figlio Can't touch L'ho indovinata Can't touch Can't touch Can't touch Giusto 4 a 1 Giusto, giusto Aspetta, ho capito qual è questa cosa Ho capito qual è, cavolo Qual è? Oh Cavolo, l'ho fatto anche io questo balletto L'abbiamo fatto anche prima di partire a Londra Ho indovinato, dai No, dimmi Eh, l'ho fatto anche io prima di partire a Londra Qual è, dai No, 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 dai, dai No, 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 no L'hai capito che l'ho capito? No, no, no Perché ne abbiamo fatti due prima di partire a Londra E dopo farò un altro No, pure la che ti ho insegnato io Why don't you love me? No Non so, so, why Why don't you say so? Vedi che la sapevo, dai Vai, battuto No, no, no Io non voglio più giocare con te questi giochi Se no, eh Questo non è un punto L'ho cantata io Tu, che a me Hai capito? Siamo 1 a 4 Via 4 a 2 No No No, è sbagliata No, è giusto, mio caro La so questa qua La l'ho fatta prima quella Ah, allora rifai, scusa Sì, sì, vai Falla un'altra volta Falla un'altra volta che ce l'ho Ce l'ho Ma mi ascolti la musica Questa di me Vieni È quella? È quella Quale? Mettila che ti dico Sì, è quella che pensavo Ma io non voglio dire Ti lo giuro C'è, no, dai Questa qua Qual è? E non so le parole in inglese No, no, vai Alza la voce, alza la voce Ehi, sinì, buone, sinì Così Sai come fa? Eh Da quella stavo cantando Ma 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 Fai il punto Hai perso Ho vinto io La challenge Mi dispiace Siamo da prendere i miei balletti Sì, è scarto Questa challenge Termina qui Spero vi siete divertiti Mi è tantissimo Perché ti ho stracciato So che non sono capace a ballare Quindi Quindi nei commenti Insultatemi pure Ci vediamo domenica Con un prossimo video Perché ogni mercoledì Ogni meredì Ogni domenica Esce un nuovo video Complimenti a Bea Che finalmente Ho vinto una challenge E niente Il bel voto è sempre piaciuto Questo sono io dal passato La cosa importantissima Una sorpresa per voi Che dovevo dirvi È questa Inizierò a fare dirette Su Twitch Oggi Che state guardando questo video Ci sarà la prima diretta Su Twitch Quindi se volete essere i primi A partecipare Alla prima diretta Dove giocherò anche Con chi mi segue Vi lascio il link In descrizione Del mio nickname Di Twitch Alle 20 Sarò in diretta Per 1-2 ore Ci vediamo là